Nero a metà, il riassunto della seconda puntata. Per Alba, vivere con la sorella è sempre più difficile. Alla fine, però, trovano il modo di andare d'accordo e prima che Alice parta per la Svizzera, Alba le regala la Vespa. Per Malik, si avvicina l'affidamento del bambino, ma lui si sente sempre più vicino ad Alba. In un casale sono state trovate delle tracce di sangue, potrebbero essere di Clara, però Malik non vuole farla preoccupare e così non le dice nulla. Ma Alba lo scopre e si arrabbia. Capisce successivamente che Malik e il padre si stanno comportando così soltanto per proteggerla e che a volte prendere la scelta giusta è difficile. Anche lei pensava di raccontare questa cosa del sangue alla sorella e al patrigno, ma poi, per proteggerli, non l'ha fatto. Ma il sangue, fortunatamente, non è di Clara. Carlo se la prende con Cantabella e con sorte. Hanno fatto un'operazione sotto copertura senza dirgli nulla. Si cerca di saperne di più su un traffico di droga nel quale potrebbe essere coinvolta la madre di Alba, anche se non è ben chiaro il suo ruolo, se di vittima o di spacciatrice.